Dobbiamo capire che tutti dobbiamo aderire, non dobbiamo contrastare queste misure, non dobbiamo pensare di essere furbi, dobbiamo tutelare la nostra salute, la salute dei nostri cari, la salute dei nostri genitori, soprattutto la salute dei nostri nonni, perché abbiamo scoperto che sono soprattutto loro, le persone più anziane, che sono esposte ai rischi, alle insidie di questo virus, che è nuovo, di cui non abbiamo grandi evidenze scientifiche, però cionostante lavoriamo con tutte le cognizioni scientifiche che ci forniscono i nostri esperti, i nostri scienziati, e da lì noi maturiamo poi la base per assumere le decisioni. Ci assumiamo tutta la responsabilità politica di queste decisioni. State tranquilli, ce la faremo, saremo insieme, marcere uniti, compatti, e speriamo che presto questa emergenza verrà superata. Le associazioni di categoria con tutte le parti sociali, questo è il momento nel rispetto dei ruoli, nella distinzione dei ruoli. Noi ci assumiamo noi la responsabilità della gestione, della conduzione di questa battaglia, ma è chiaro che vogliamo che tutti siano informati, siano partecipi di questo impegno. E quindi anche le forze di opposizione ho molto apprezzato che hanno preannunciato la volontà di un incontro con me e con gli altri ministri, di voler discutere sulle misure economiche. Sarà fatto e quindi ancora a tutti i cittadini vi invito, grazie per l'ascolto, e soprattutto vi invito ad essere fiduciosi perché noi ce la faremo.